che spettacolo bello che spettacolo 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 con la neve alta così sul cucuzzo della montagna con la neve alta così che spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo che è che spettacolo che spettacolo che si 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 che spettacolo che si che si che spettacolo che spettacolo che si che spettacolo che spettacolo che si che spettacolo 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 Grazie. Giornata direi ottima. Ma spiegate un po' qua. Se mi avrei un po' tutto da finire le cose, non è male. Cazzo carino, eh. Si è tutti gioco qua. Evidentemente, eh. Ah, poi sei vicino a casa. Ah, lui di qua. Cosa? Lui di qua. Tutti a posti nobili. Un po' ci stiamo su bene. Ma sti giù. E' bella volta. Con calma, spazze. Non mi sa girare. No, no, infatti. Devo... Facciamo un po' di volte questa qua. Che era più easy. Questa qua in... Questa è tranquilla. La cosa che gira scherzi è l'ancola. Ma io la chiamiamo per coglione. Ma non c'è, c'è giù l'ancola qua. Sì. Eh? Vai, vediamo. Figa. Ma zurda, senchino, è il medioevo. Eh, infatti. Allora, telecamera accesa. Quindi adesso? Adesso scendiamo. Vieni dietro a me, facciamo piano. Com'è? Ben beh. Beh, ba. Vieni dietro a me! Vai, vieni! Cheid Grazie.